Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 code in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. Traffico rallentato tra la variante di Valico e Calenzano-Sesto Fiorentino in direzione Roma. In A11 in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1 e code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Sulla FIPILI code a tratti tra la Strassegna e Firenze-Scandici in direzione Firenze e coda in uscita a Scandici provenendo da Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e per i lavori della tramvia fino a fine ottobre restringimenti di carreggiata per lavori in via Gordigiani e via Bonsignori. Ovest in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Grazie a tutti.